Un corteo da via Roma fino all'ospedale San Giovanni di Dio per ribadire ancora una volta la propria posizione. La stessa da oltre tre settimane da quando hanno deciso di organizzare un presidio a oltranza sotto l'assessorato alla sanità a Cagliari per chiedere risposte, un futuro certo, il diritto al lavoro. Sono i 36 operatori sociosanitari del Policlinico di Monserrato, assunti a tempo determinato durante la pandemia, con la fine dell'emergenza, una stabilizzazione che non è mai arrivata. La nostra protesta continua perché fino ad oggi abbiamo sentito solo parole, non abbiamo visto i fatti, continuiamo a protestare fino a quando non vediamo i fatti. E se continuiamo a sentire solo parole siamo costretti a mettere la tenda non solo al San Giovanni di Dio, ma anche la regione perché qualcuno ci deve dare risposta. Loro ci devono dare risposta, loro ci devono ridare i contratti! La fiducia riposta nelle istituzioni, nella presidente della regione Alessandra Todde, ma anche nell'incontro di una delegazione di OSS, con il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera universitaria di Cagliari Giancarlo Angioni, con l'auspicio che non si tratti, come già capitato, dichiarano i manifestanti di sole parole. Lei è arrivata da noi in tenda per ben due volte, ci ha dato tranquillità, ci siamo affidati a lei. Noi chiediamo ancora alla presidente Todde di guardarci e di garantire i nostri contratti e di garantire il lavoro svolto nel periodo del Covid, nel periodo duro. Presente alla manifestazione è anche una delegazione di OSS dell'ospedale di San Gavino, anch'essa in attesa di stabilizzazione. Un problema, quello dei precari della sanità, che riguarda tutti, anche i cittadini. La sanità sarda è smontata, è distrutta, quindi non è una cosa che riguarda solo a noi, ma riguarda le nostre famiglie, le loro famiglie. Quindi io spero che tutti scendano in piazza per manifestare, perché non se ne può più di questa situazione. La sanità sarda va rispettata e deve essere una sanità pubblica, non una sanità privata. La prima cosa è il diritto alla salute, è quello che ancora ad oggi non c'è, perché tutti stanno andando fuori, chi non permette di andare fuori muore, e questo è il risultato, muore, perché non tutti hanno la possibilità di andare fuori dalla Sardegna, ma questo non è giusto.